Consorzio di bonifica Valle Lao presentato il programma di sviluppo rurale, 10 incontri per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Abiosuperficie, ecchi dettagli dell'intesa siglati in provincia dal comune di Scalea, Basile serve l'impegno di tutti gli attori. Belvedere, presentati in Libra Belenati, Fabrizio Arpuri dell'Associazione Commercianti, il confronto tra attori è utile per cercare soluzioni. Rai a mare, chiusi festeggiamenti dei 25 anni della Chiesa San Paolo Apostolo e della Missione Popolare. Erano le anticipazioni di Rete3 News, buonasera e ben ritrovati da parte di Martino Ciano. Oggi, martedì 15 febbraio, partiamo subito con il nostro telegiornale. In apertura abbiamo la cronaca perché, a quanto pare, Nicola Trazza avrebbe confessato l'omicidio di Giovanni Isolani. Al momento la notizia non trova conferma ufficiale, ma da quanto è trapelato, Trazza avrebbe sparato all'amico per sbaglio, proprio mentre i due litigavano per chi dovesse tenere la pistola, che tra l'altro non è mai stata trovata. Si tratta però soltanto di indiscrezioni e infatti i verbali sul caso sono secretati, come era già avvenuto durante la prima udienza, durante la quale Trazza avrebbe parlato abbondantemente dell'accaduto. Sempre da scalea, invece, una notizia per quanto riguarda l'ambiente. I cittadini infatti possono stare tranquilli, non sono stati rilevati particolari situazioni di degrado ambientale. Le affermazioni sulla possibile presenza di metalli pesanti nella vasca della discarica di piano dell'acqua non sono supportate da dati scientifici. Lo riferisce l'amministrazione comunale a seguito dei risultati delle analisi dell'ARPACAL. La buca B, prima del conferimento dei rifiuti, è stata interamente rivestita con teloni in materiale plastico impermeabili. Il liquame che si genera dalla decomposizione della frazione umida, il cosiddetto percolato, viene trattenuto dal telone e dopo essere stato analizzato viene smaltito in un impianto di depurazione specializzato. È in atto comunque un sistema di captazione del biogas per congenerazione, in modo da sfruttare l'energia prodotta dagli stessi rifiuti. Risultano inoltre positivi i risultati sulla qualità delle acque dei canali cittadini, cornale e revoce. Passiamo adesso al Consorzio di Bonifica Valle Lao. Infatti nella sede del Consorzio di Bonifica questa mattina è stato presentato il programma di sviluppo rurale. Vediamo i particolari nel servizio di Gaetano Bruno. Il Consorzio di Bonifica dell'Ao e dei bacini del Tirreno Cosentino riparte dalla Infoformazione. Nell'ambito del programma di sviluppo rurale Calabria 2007-2013 è stato presentato questa mattina l'asse 1 del progetto che mira il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Una serie di 10 incontri tra seminari, convegni, open day con visite presso aziende virtuose per addetti del settore, giovani imprenditori agricoli, cooperative di produzione, società di distribuzione e di trasformazione dei prodotti agroalimentari realizzati con il partenariato della Meridio Onlus. Il problema fondamentale è quello di portare un messaggio in quest'area del Tirreno legato alla ripresa dell'agricoltura, far conoscere i finanziamenti che ci sono e attivare un ciclo informativo che sia sempre presente sull'area perché non sarà solo il consorzio a iniziare questo tipo di attività, ci saranno una serie di altri comuni, una serie di altri soggetti che in quest'arco di tempo che va da marzo a settembre illustreranno tutte le nuove tematiche, tutti i filoni di finanziamento del PSR Calabria. Alla presenza di docenti universitari saranno trattati temi come l'agricoltura multifunzionale, i costi e i benefici delle denominazioni geografiche, la conservazione delle varietà locali e le leggi regionali a tutela. Un modo per confermare e riaffermare la presenza del consorzio sul territorio ed il suo ruolo. Noi siamo qui, vogliamo svolgere un ruolo da protagonista sul territorio, puntiamo allo sviluppo economico di questo comprensorio e lo facciamo anche attraverso questa attività informativa con un gruppo di professionisti che fa da monitoraggio sulle risorse finanziarie. E i prodotti calabresi hanno trionfato nel corso della Fruit Logistica di Berlino 2011, la più importante vetrina mondiale per i prodotti ortofrutticoli. A riferirlo è l'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra. E a far da padroni sono stati gli agrumi della piana di Sibari Corigliano, che attestano la Calabria quale seconda produttrice nazionale, la cipolla rossa di Tropea, il kiwi della piana di Gioia Tauro e la fragola di Lamezia Terme. Il valore della produzione commercializzata è pari a più di 860 milioni di euro. Proprio perché questi sono i numeri su cui possiamo contare, conclude Trematerra, la Calabria ha tutte le carte in regola per vincere un'importante partita. E torniamo a parlare invece adesso dell'aviosuperficie di Scalea. Il sindaco Basile entra nel dettaglio del protocollo d'intesa siglato con la provincia di Cosenza e Camera di Commercio e tutti i particolari sono nel servizio di Andrea Polizzo. Una società mista pubblico-privata che gestisca l'aviosuperficie di Scalea nel passaggio da Cattedrale nel deserto ad aeroporto privato fino al pieno rilancio della struttura. E' questo, secondo il sindaco di Scalea Pasquale Basile, il destino della struttura posta nei pressi del fiume Lau. L'amministratore vede all'orizzonte il completamento del processo innescato tempo fa dalla conferenza degli enti del patto territoriale Alto Tirreno-Cosentino e che nelle ultime ore è stato rinvigorito, dopo un lungo periodo di stallo, dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa. La firma è avvenuta alla provincia di Cosenza, tra l'ente presieduto da Mario Gerardo Oliverio, la Camera di Commercio del Capologo Bruzio e il Comune di Scalea. La società di gestione, dichiarato Basile, sarà creata dal consorzio previsto dall'intesa siglata in provincia. Di esso fanno parte di diritto i firmatari, ma entreranno anche i comuni e gli altri enti del patto che tempo fa nel rinunciare ad alcuni finanziamenti sono stati veri artefici della struttura. Auspichiamo anche, ha aggiunto Basile, nell'adesione della Regione Calabria e dei privati. Il primo cittadino di Scalea si è spinto fino ad auspicare il coinvolgimento dei comuni della Basilicata, geograficamente compresi nel Golfo di Policastro. Nell'immediato, ha commentato Basile, la struttura dovrà funzionare come aeroporto privato, ma la gestione dovrà puntare a una classificazione migliore dell'aviosuperficie da parte dell'ente nazionale e dall'aviazione civile. Infine, il sindaco di Scalea, comune capofila dell'iniziativa, preannuncia tempi rapidi per raccogliere i primi frutti. Quanto ai finanziamenti, ha detto Basile, faremo riferimento all'Unione Europea e alla Regione Calabria, presentando tutta una serie di progetti reali, concreti, realizzabili. E mentre in Calabria si fanno solo parole, a Roma si affondano le prospettive del porto di Gioia Tauro. Infatti, il decreto mille proroghe darà solo le briciole alla struttura portuale. Lo sostiene Pippo Callipo, legale rappresentante protempore di Confindustria Reggio Calabria. Se così fosse, aggiunge Callipo, sarebbe un disastro per tutta la Regione. E' chiaro che se non si otterranno risultati, la Calabria deve prepararsi ad una mobilitazione storica e sorprendente per l'intera Italia. E adesso andiamo invece a Sapri, dove per il 19 febbraio prossimo è stata proclamata una giornata di sciopero da scuole, uffici e attività commerciali. A motivare questa decisione, la mancata rimozione dei massi caduti tre mesi fa sulla Statale 18, l'arteria che collega Campania, Basilicata e Calabria. L'interruzione del trasporto su gomma ha già fatto registrare danni all'economia e al turismo. Dicono in una nota l'Associazione Non Staremo Più a Guardare, l'Associazione dei Commercianti A6 e l'Associazione Consumatori e degli Utenti del Golfo di Policastro. Ancora nessuno ha fatto nulla. Alla serrata generale che si terrà a Sapri sono stati invitati i sindaci del Basso Cilento, del Lago Negrese e dell'Alta Calabria. E inoltre anche il presidente della regione Campania Stefano Caldore, l'assessore regionale ai lavori pubblici Edoardo Cosenza. E comunque vi vogliamo ricordare anche che proprio sul tema dei sistemi di comunicazione e dei trasporti all'interno dell'Alto Tirveno Cosentino, si parlerà nel corso della quinta puntata una finestra sul territorio che andrà in onda alle 21 venerdì con la conduzione di Andrea Polizzo. E adesso invece passiamo sempre a parlare del Consorzio Vallelao, dove sabato si è tenuta a scalea la presentazione del progetto Le Vie del Gusto. e il servizio è stato realizzato dal nostro direttore Pietro Nigro. Un'unica offerta integrata del territorio, dell'intera riviera dei Cedri, dalla costa da Mantea fino a Tortola, per presentare agli operatori turistici della BIT di Milano un unico pacchetto, un unico territorio con le sue specificità, con le sue diversità, con le sue ricchezze. A proporla è Ai Confini del Gusto, ambizioso progetto di marketing territoriale realizzato dalla società Labcom e presentato sabato scorso nella sede del Consorzio Vallelao di Scalea. A presentare il progetto l'amministratore della Labcom, Rossella De Marco, l'assessore regionale all'agricoltura, Michele Trematerra, e il commissario del Consorzio, Davide Gravina. E' proprio il sindaco di Fuscaldo, tra i primi sostenitori del progetto, ne spiega caratteristiche e finalità. Noi lo abbiamo detto fin dal primo giorno dell'insediamento qui al Consorzio di Bonifica Vallelao, con sede a Scalea, che il Consorzio doveva tramutarsi in un'ende capace di fare di promozione e sviluppo del nostro territorio. Su queste impostazioni abbiamo lanciato un'idea, quella di creare un pacchetto integrato da presentare anche nei mercati internazionali. Ci è sembrato opportuno essere presenti già all'abit di Milano. Il progetto prevede una guida stampata al territorio e ai suoi paesi, con le loro risorse ed attrattive. Questi contenuti sono presentati anche su una guida multimediale, su DVD e sono integrati dal sito www.dvd.com.